I mesi qua per me sono stati i più belli della mia vita, veramente. Mi sono sentita viva quando non mi ero mai sentita prima. E allora perché te ne vai? Andiamo da lui e vai, insolta. Sì, sì. L'anorismo è migliorato, Emma. E te non sei la prima cosa per cui vale la pena vivere. E se tu senti che da qualche parte c'è un figlio tuo, io ti credo e farò di tutto per aiutarti a trovarlo. Intesi?